ciao a tutti e benvenuti a tutti benvenuti a tutti benvenuti 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 ora stiamo provando a configurare il primo bot per provare a fare una live su un altro sito quello del ticket in stack ma questo che guardiamo gli aggiornamenti ce ne dovrebbero essere tanti andiamo qua ce l'abbiamo io prenderai quasi il matrimonio perché se c'è il matrimonio qua c'è il matrimonio così mi dicono ancora il matrimonio vabbè ce l'abbiamo volendo apriamo chiudiamo la lume qui c'è tutto qui c'è qui c'è qua vediamo cos'è qui vediamo ma ora 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 il venditore 1,2,1 pezzo e qui e qui e qui e qui e qui e qui banca ma i i i a non è presto allora dai questo qua andai qua a metterla in questo qua fattore hai dovuto iniziare a prendere fattore sempre quel allora che fa il tuo lavoro allora allora guarda qua non ho capito ma non ho capito ma non ho capito ma non ho capito che fattore anche questa ladra no poi non non ho capito non ho capito proprio Definitely stag non c'è che non ho capito leavat juk E' un po' di giro, ma che non è un po' di giro, ma che non è un po' di giro. Grazie a tutti. 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 ok. a tutti. 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero Non è vero Non è vero Non è vero, 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 non è vero Non è vero Non è vero, non è vero Non è vero Non è vero, non è vero Non è vero, non è vero Non è vero Non è vero, non è vero Non è vero, non è vero Non è vero Non è vero, non è vero Non è vero Non è vero, 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 non è vero Grazie a tutti. 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 A presto. Ciao a tutti. Grazie a tutti.